Allora, fa un grosso saluto a Dieguito, un saluto a Dieguito e agli amici di Radio Alba da parte di Ludolfine, che invita tutti venerdì 13 di gennaio, sfatiamo la scramanzia, alla nostra festa, la festa con cui presentiamo il nostro disco, assieme a tanti amici, assieme a una session di musicisti che suonera prima di noi, assieme a Yavanna, assieme a tutti voi che farete festa con noi in un nuovo grande ballo occitano.